Voglio dare la parola alla dottoressa Alessandra Pedone che è ricercatrice INAP, l'Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche. La ringraziamo e ci illustri invece quelli che sono il suo ragionamento, la sua relazione. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Carlo Magno in particolare per l'invito ad INAP e al Presidente che non è potuto essere qui per precedenti impegni e volevo condividere con voi alcune riflessioni cruciali anche alla luce delle osservazioni poste dal Presidente Istat riguardo in particolare lo sviluppo delle competenze del personale nella pubblica amministrazione partendo dal contesto europeo, il contesto europeo caratterizzato dal punto centrale che è il percorso per il decennio digitale che vede come uno dei quattro brilastri appunto i servizi pubblici quindi il 100% online di servizi pubblici chiave sia per le imprese che per i cittadini entro il 2030 e questo obiettivo si lega agli obiettivi delle competenze, competenze digitali che al momento qui sono misurate dall'indice desi che elabora la Commissione europea ogni anno e questo è quello relativo ai dati 2021, gli ultimi disponibili, che vede il capitale umano in Italia, questo è relativo a tutti i cittadini, ancora molto al di sotto della media europea quindi siamo a un 46% contro una media europea del 54% e lontani dal target europeo che è dell'80% e questo ovviamente mette in crisi anche il sistema di accesso ai servizi pubblici perché le competenze sia dei lavoratori che dei cittadini essendo a livello basso corrisponde anche a un basso livello di partecipazione all'e-government, partecipazione che però non vedete qui nei dati si è incrementata in quest'ultimo anno arrivando alla media europea quindi questo grazie all'implementazione di tutti i servizi pubblici online specialmente degli open data online e ci sono nuovi report che stanno per essere elaborati dalla Commissione europea in questo senso quindi risulta cruciale lo sviluppo delle competenze e in questo senso la Commissione europea ha lanciato, il Parlamento e tutte le istituzioni europee hanno lanciato l'anno europeo delle competenze 2023 per aggiungere uno slancio ulteriore per raggiungere gli obiettivi delle transizioni, in particolare della transizione digitale e gli obiettivi molto ambiziosi che sono anche legati alla formazione quindi raggiungere il 78% di occupati in formazione continua ogni anno. Quindi la formazione e l'INAP è stato nominato coordinatore referente nazionale nella persona del direttore generale quindi raccogliamo tutte le iniziative a livello nazionale sull'anno europeo per le competenze. Il nostro istituto porta anche avanti una linea di ricerca denominata INAP Academy che si rivolge agli enti pubblici di ricerca per stabilire comunità di pratiche, scambio di conoscenze, lavoro di rete e nell'ambito di questa c'è una ricercazione operativa per identificare in particolare i fabbisogni di competenze all'interno degli enti pubblici di ricerca con in prospettiva anche l'elaborazione di proposte di corsi di formazione ad hoc. Ma entriamo nel vivo delle competenze. Indaco.PA è l'indagine che l'INAP porta avanti dal 2018 sulla conoscenza della pubblica amministrazione quindi rileva sia le caratteristiche strutturali della diffusione delle attività formative nella pubblica amministrazione e conduce anche degli approfondimenti qualitativi con studi di caso. I dati salienti dell'ultima edizione, quella del 2022 con dati del 2021, vede come balzare subito all'attenzione lo sviluppo della formazione online che dalla pandemia si è imposto come modalità di erogazione quasi prevalente e la modalità di erogazione dei corsi online in modalità sincrona ormai sia nel pubblico che nel privato è assimilata alla formazione in presenza. Le materie oggetto dei corsi online sono state soprattutto quelle legate al lavoro agile, alla privacy, quindi a tutti gli adempimenti procedurali e anche ovviamente al digitale, l'ICT, l'informatica. Questo è il grado di accordo verso la formazione in presenza online che hanno espresso le pubbliche amministrazioni intervistate e quindi prevale una maggiore fruibilità e agevolezza della formazione online rispetto a quella in presenza. Il dato saliente è quello relativo a quante amministrazioni hanno promosso attività di aggiornamento e sviluppo delle competenze del personale. Nel 2021 era dell'86,9% e nel 2022 è salito ancora all'87,8%, quindi c'è una grande partecipazione delle pubbliche amministrazioni alla formazione, molto più che nelle imprese. La variabile relativa alla partecipazione purtroppo non è nello stesso senso perché soltanto poco più della metà del personale in realtà partecipa ai corsi di formazione, più nelle amministrazioni centrali e meno in quelle locali e il tasso di intensità corrisponde a una media di circa 18 ore di formazione per partecipante. Ricordiamo in quest'ambito le rilevanti funzioni stabilite soprattutto dal direttivo 24 marzo 2023 della funzione pubblica per la pianificazione della formazione e lo sviluppo delle competenze che prevede appunto l'implementazione ulteriore del syllabus e il passaggio importante della garanzia a ciascun dipendente di almeno 24 ore di formazione l'anno. Quindi c'è ovviamente gli obiettivi sono entro il 2025 ma c'è molto lavoro da fare. Quindi qui vediamo nel grafico esplicitate le diminuzioni rispetto al 2018 nella partecipazione alla formazione e le tematiche trattate, adesso non si legge bene, ma sono state prevalentemente quelle legate alla giurisprudenza, alla normativa, all'adempimento e quindi alle procedure più che quelle legate al digitale e alle lingue che risultano in ultima posizione. Le dieci competenze invece ritenute più importanti delle amministrazioni intervistate sono state sempre quelle legate alla pianificazione, alle procedure e soprattutto anche alcune competenze trasversali che sono il problem solving e la gestione del tempo di lavoro e competenze trasversali che diventano molto rilevanti e importanti anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Le criticità emerse nelle indagini sono appunto quelle legate ai bassi tassi di accesso alla formazione da parte del pubblico impiego dovuti in gran parte alla gestione quasi esclusivamente esterna dei corsi e alla scarsa presenza di un ufficio che si occupa specificatamente dell'analisi dei fabbisogni del personale e la mancanza di una progettazione specifica per i corsi di formazione. Ricordiamo che il piano di formazione dal 2022 è inserito nel PIAO, è stato recepito quindi dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'indagine e come vedremo il PIAO nella indagine qualitativa è risultato un importante strumento ma ha bisogno anche di non essere sentito soltanto come un adempimento formale ma con un'occasione per pianificare la formazione. Lo studio qualitativo svolto su alcuni comuni sia del nord che del centro che del sud ha rilevato come denominatore comune la digitalizzazione che ha sconvolto diciamo dalla pandemia in poi tutti i processi quindi sia i processi operativi, le interazioni con i cittadini e che quindi ha fatto sentire maggiore la necessità di implementare le competenze soprattutto nel digitale. Abbiamo avuto diverse esperienze da parte dei comuni quindi quelli più grandi ovviamente come il comune di Milano e il comune di Roma che hanno implementato da subito anche durante la pandemia una formazione verso il digitale accompagnandola anche con processi di onboarding per i nuovi assunti che è una importante prospettiva anche nell'ambito delle prospettive richieste dal PNRR per l'assunzione di nuovo personale e quindi la formazione del personale ha accompagnato tutte le transizioni nei comuni che abbiamo intervistato però in maniera diversa ovviamente a seconda delle dimensioni del territorio e ad alcuni purtroppo è stata considerata la formazione come una mera risorsa operativa come era considerata anche in passato. Il paradigma della formazione quindi il cambiamento della metodologia dalla pandemia in poi è stato anche aumentato con il lavoro agile quindi la formazione legata al lavoro agile e la formazione a distanza. Gli obiettivi del PNRR si sono aggiunti alle priorità del breve e medio periodo delle pubbliche amministrazioni con una necessità anche di sviluppo delle soft skills come abbiamo detto accanto alle competenze digitali. La valutazione però resta ancora, la valutazione degli effetti della formazione resta ancora di scarso l'interesse per mancanza di risorse, di tempo, di uffici preposti alla stessa. Il PIAO come abbiamo detto è stato considerato uno strumento molto utile perché integra finalmente all'interno il piano di formazione e non è stato attuato ancora da tutte le amministrazioni perché è entrato in vigoria nel 2022. Linee di indirizzo per individuare i fabbisogni sono ancora in una fase iniziale. Quindi concludo dicendo che il rafforzamento della capacità programmatoria e gestionale nella pubblica amministrazione riguardo alla formazione ha bisogno di una grande implementazione sul versante soprattutto della pianificazione, valutazione e aggiungere anche certificazione. Dottoressa, grazie perché i solidari matchano con quelli del direttore Camisasca, insomma i bassi tassi d'accesso alla formazione, poi ci ha parlato delle attività di aggiornamento che hanno mi sembra un trend positivo sui numeri. Poi insomma con Marco Carlo Magno al quale do la parola, segretario generale di FLP, abbiamo spesso discusso di qualità, di come si fa poi aggiornamento, anche le modalità che si seguono per fare aggiornamento. Allora grazie dottoressa.